Per lo spazio, mangia e bevi e finalmente anche il Pantarei ha aperto le porte alla stagione estiva con un delizioso sabato sotto le stelle. Benvenuti amici di Night and Day, siamo una bella squadra a proposito dell'Italia. Mirko, buonasera, dobbiamo il benvenuto a Mirko. Ciao! Ciao! Tutto bene? Sì! Rocco, buonasera, siamo al Pantarei, tutto scorre! Tutto scorre! Finalmente abbiamo inaugurato quelli che sono i portici. Nel scenario naturale non c'è bisogno di coreografia perché il Borgo Scacciaventi ha uno scenario architettonico storico che non bisogna fare nessun accorgimento. Quindi si può scenare tranquillamente all'esterno, c'è un'area proprio pulitissima, molta gente come poi le immagini descriveranno. E poi noi offriamo sempre il nostro indicato di menù e il menù si puntiamo un po' sul mare giustamente. Perché qui dobbiamo ricordarlo che ogni settimana c'è un menù, a parte quello che potete prendere e quello che vogliono, però c'è un menù fisso se ve lo volete. Primo, secondo? No, facciamo un antipasto, primo e secondo. Questa settimana abbiamo un polipolla genovese, un pacchere di zucchini e gamberi e una seppia alla brace con cottura di piselli. Bene! E questo menù noi lo offriamo a 15 euro. Praticamente? No, è una nostra kick che diamo un assaggio su un menù che poi è concordato con il nostro chef che offriamo ai nostri clienti. In inverno, giustamente, abbiamo puntato su prodotti un po' più invernali. Poi per il resto, noi comunque, al di là della carta dei vini, che siamo sempre lì, abbiamo arricchito un po' i bianchi, giustamente. Già, preferiamo sempre lo stesso. Ah, beh, il sangue di Giuda, abbiamo arricchito anche qualche etichetta in più sul sangue di Giuda. Tastato, tastato. Da lì è nata poi la moda del sangue di Giuda. Loro hanno contribuito all'amore del sangue di Giuda. Va detto, va detto, va detto, anzi a voi, è nata in D. E in più, comunque noi all'interno... Stasera si è divertito con quelli che sono i cocktail, diciamo. Sì, infatti, perché poi tra parentesi, la ristorazione, io lo dico sempre... Non solo Rocco, ma anche Mirko. Lui è la mia spalla destra, è un guai che me la tocca, perché senza dire lui sarai finito. Se imbrassare così piccolo, venite al Pantarei e ve ne accorgerete che un ometto piccolo è in grado di fare cose... Lo dobbiamo andare a scommettiamo che lo dobbiamo andare. E per quanto riguarda i cocktail invece che... Allora, infatti, dicevo che, come dico sempre, storicamente al Natendei, e noi siamo locali a 360 gradi, quindi noi come offriamo una ristorazione di mare, offriamo le nostre carne, i nostri taglieri di latticini, cosa che semmai abbiamo rimarchiato di meno, però abbiamo dei latticini di una certa qualità dove vi consiglio anche di assaggiare questi latticini che variano proprio anche loro... È una bella, diciamo, un bel mist di latticini. Abbiamo i nostri formaggi e in più noi, al di là della ristorazione, qui si può venire anche a sussicare qualcosa con dei cocktail. La nostra lista dei cocktail, chi viene al locale, la legge, e vede che parte dai pre-dinner, upper-dinner, long-drink, quindi abbiamo sui 120 cocktail e più qualche frozen proprio per l'estate e accontentiamo anche le persone per poter... Sto Pantarei! No, facciamo tutto veramente, ma non... Stanno la pizza, poi per il resto no. Diciamo qualcosa che non facciamo, ma detto. Mi accontentate tutti, li coccolate a 360 gradi, faccio il micco con... Praticamente, veramente io ti devo fare i complimenti, Mirko. Ma ti piace? Sì. Però ricordiamo, ecco, anche che c'è la possibilità, non soltanto fuori adesso che ormai fa caldo, ma anche dentro che c'è l'aria condizionata. Sì, l'aria condizionata, quindi i nostri sale relax, inverno, estate, qualsiasi stagione sono sempre piene, perché è la nostra chicca e quindi sicuramente lì... E poi lì, giustamente in estate, come in inverno diamo l'aria calda, in estate diamo l'aria condizionata, quindi l'aria fredda, per farli stare bene come abitati. Penso che davvero siamo stati esaustivi. Sì, siamo stati esaustivi, diamo solo l'info, pensa, non lo so, se me lo dici tu, ormai ho imparato la lezione. Borgo Scacciaventi. Siamo al Borgo Scacciaventi, Cava dei Tirreni, Corso Umberto I 58, abbiamo il nostro sito che è stato proprio aggiornato dieci giorni fa, nuova look, fresco, nuovo look, dove ancora spiega meglio e visualizza meglio le immagini anche della zona esterna che è stata inserita proprio l'altro ieri, www.pantarei.com dove lì ci sono tutte le informazioni, si può prenotare anche via email infochiocciolapantarei.com Anche per qualsiasi vostra festa? Sì, feste private, le possiamo fare anche all'esterno, non ci sono problemi, avete i porticati che sono a vostra disposizione, grazie anche al Comune di Cava dei Tirreni, che vi ha detto che si è messo a disposizione per rendere la città di Cava sempre più appetibile, anche più appogliente per chi ci viene a trovare. E i nostri recapiti telefonici sono 089 44 3352 per il fisso, il 333 40 41 705 per il libero. Penso che siamo stati più che saurienti. Come siamo stati? Chiari. Chiari! La domanda della settimana. Non ce l'ho, non ce l'ha. Ok, quindi non abbiamo la domanda della settimana, abbiamo due splendite ragazze, uno scenario splendido, Vi aspettiamo, Mirko, mando un bacio. Pantarei forever.